salve eccoci qui a commentare una nuova sentenza come vediamo dal titolo il tema è il comando di polizia locale il comandante di polizia locale un tarlecce del 21 marzo 2023 la sintesi che vi ho messo è infungibile a capo di un corpo autonomo collegato al sindaco non ruota vediamo che cosa ci dice questa sentenza da cosa nasce sentenza 371 tarlecce la sentenza riguarda l'impugnazione da parte dell'attuale comandante del corpo di polizia locale i cui dati sono omessi per motivi di riservatezza di un comune ovviamente della regione il quale ha impugnato il regolamento leggiamo per quale motivo vedete fatto attuale comandante impugna la delibera di approvazione del nuovo regolamento del corpo di polizia locale perché la legge di riforma della polizia locale legge 65 dell'86 che rinvia alle legislazioni regionali nel caso della puglia legge regionale 37 2011 prevede poi una possibilità di regolamentazione da parte di questo regolamento del corpo di polizia locale che è una parte del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi perché disciplina appunto le modalità operative attraverso le quali è organizzato il corpo negli enti dove è possibile istituirlo il motivo di ricorso che viene fatto valere in realtà qui il tardice unico motivo di ricorso poi ne analizza due diciamo ne approfondisce due parti riguarda l'eccesso di potere per errata presupposizione in giustizia manifesta e violazione in materia di pubblico impiego vediamo perché l'articolo 8 questi sono le doianze i motivi che il comandante adduce contro la delibera del suo comune di approvazione del regolamento l'articolo 8 della legge regionale dispone che il corpo o il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore questo in virtù del fatto che appunto la riforma della polizia locale ha previsto questo ruolo la polizia locale è parte dell'amministrazione ma è una parte un po' diversa perché è una parte che dire dipende direttamente dal sindaco per alcune funzioni dipende dalla procura per le attività di polizia giudiziaria è in stretto collegamento con lo stato il prefetto il questore per le attività di polizia quindi ha un ruolo che è interno all'amministrazione ma sui generis da molti punti di vista uno di questi è l'impossibilità di inserire il corpo all'interno di un'altra direzione di un dirigente amministrativo di una figura diversa da quella che è il comandante proprio per queste funzioni delicate e specialistiche che ha questa previsione cioè questa formula era contemplata nell'articolo 1 del previgente regolamento mentre lamenta il comandante che è stata tolta nel nuovo regolamento alla luce della legge 65 il corpo di polizia locale è un'entità a sé autonoma rispetto alle altre strutture comunali e il cui comandante risponde solo e direttamente al sindaco questa è una delle caratteristiche come vi dicevo il corpo è sì polizia locale ma è anche staccato è sì comune ma è anche staccato dal comune l'articolo 14 del nuovo regolamento quello che è impugnato nel richiamare l'articolo 9 della legge 65 rimarca l'autonomia del comandante la sua responsabilità verso il sindaco il che rende ancor più illegittimo l'aver tolto in riferimento al fatto che non debba far parte di un corpo intermedio quindi la tesi del ricorrente è che il regolamento sarebbe illegittimo perché va a introdurre surrettiziamente questa possibilità come detto sembrava un solo profilo di doglianza poi il tar dice con secondo profilo di doglianza si deduce che il regolamento è illegittimo nella parte in cui ha soppresso la previgente disposizione che descriveva il comandante come figura dirigenziale specialistica quindi secondo profilo non solo sembrerebbe che il corpo possa far parte di un settore intermedio ma addirittura che il comandante non abbia specifiche professionalità sulla base di questa scelta dice il ricorrente ci sarebbe il parere del segretario generale che è oggetto di impugnazione nella parte in cui prevede l'attribuzione di incarichi dirigenziali che possono prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi quindi un incarico 109 con il quale appunto sembrerebbe potersi dare al ruolo di comandante anche una figura diversa in tale parere si precisa che nella legge 65 nella legge regionale definiscono specialistica la figura del comandante quindi sembrerebbe proprio un parere volto a togliere questo riferimento alla specificità per poi nominare qualcun altro comandante questo è l'ipotesi diciamo del ricorrente diversamente l'aspetto specialistico della figura del comandante è previsto nell'articolo 11 della legge regionale che dice che per fare il comandante deve si deve fare un concorso per titoli ed esami oppure mobilità quest'ultima nell'ambito dell'area vigilanza polizia locale delle forze dell'ordine di pari grado quindi deve venire da quel settore la partecipazione subordinata ai requisiti soggettivi d'unità psicofisica secondo parametri stabiliti dal regolamento l'articolo 11 della legge regionale inoltre prevede che non si possano dare le funzioni ad interim del comandante ad altre persone cos'è l'interim l'interim è la sostituzione del comandante in caso di assenza prolungata il comandante va in ferie un mese ovviamente non può rimanere scoperto normalmente fra dirigenti l'interim viene data un altro dirigente quindi se manca il dirigente del servizio finanziario lo fa il dirigente del servizio amministrativo o viceversa se manca il dirigente dei lavori pubblici lo fa il dirigente dell'edilizia e viceversa per il comandante no si va al vice comandante eventualmente questo perché l'interim è previsto solo nelle more cioè in attesa della procedura di nomina del comandante la legislazione regionale quindi secondo il ricorrente evidenzia la funzione specialistica e attenzione l'accesso alla funzione di comandante esclude ogni fungibilità di ruolo questo è il concetto fondamentale non è sostituibile da altri all'interno del comune perché è un corpo separato magari sia all'interno del corpo ma non all'interno del comune l'articolo 5 della legge regionale vale per la puglia ma vale per tutte le leggi regionali gli appartenenti ai corpi ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni diverse fungibilità infungibilità anche del personale diverso quindi ne deriva che a maggior ragione il comandante non è fungibile nemmeno si potrebbe sostenere che la figura del comandante sia sottoposta a rotazione noi sappiamo che il principio di rotazione un principio forte della normativa dell'anticorruzione che prevede che tutto il personale in particolare quello apicale debba cambiare di ruolo dopo tot anni questa infungibilità impedirebbe l'applicazione anche delle norme anticorruzione sulla rotazione i requisiti specifici per il comandante sono previsti dalla legge regionale queste le tesi del ricorrente vediamo il comune come si difende si costituisce in giudizio il comune ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché perché quello che viene impugnato è il regolamento noi sappiamo che in generale un regolamento non può essere direttamente impugnato ma deve essere impugnato attraverso l'impugnazione del provvedimento attuativo e infatti il comune prima eccezione si difende nel caso di specie viene impugnato in via diretta l'atto di macro organizzazione il regolamento ma non emergerebbe alcuna lesione diretta della sfera giuridica del ricorrente quindi inammissibilità per per aver impugnato un regolamento non immediatamente efficace in ogni caso carenza di interesse perché con l'approvazione del nuovo regolamento il problema si pone se io non ti rinnovo l'incarico ti revoco ma non nell'immediato nell'immediato il comandante continua a fare le stesse cose questa è la tesi difensiva del comune terza diciamo motivo se si ritenesse sussistente un interesse del del ricorrente allora quel provvedimento regolamentare non sarebbe più un mero atto di macro organizzazione ma diventerebbe un atto di micro organizzazione cioè la giunta avrebbe esercitato un potere di decisione sul lavoro sull'attività lavorativa del comandante e quindi ci sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avrebbe dovuto impugnare davanti al giudice ordinario avrebbe dovuto citare in giudizio il comune davanti al giudice ordinario quindi alla fine il comune sostiene l'inammissibilità per aver impugnato un regolamento o comunque avere una carenza di interesse o il difetto di giurisdizione in ogni caso anche se venissero ammesse questi elementi l'infondatezza del ricorso nel merito vediamo che cosa dice il tar osserva preliminarmente il collegio che sussiste la giurisdizione amministrativa perché la parte ricorrente contesto un atto di macro organizzazione che nelle prospettazioni del gravame sarebbe direttamente lesivo delle prerogative del corpo e del comandante quindi da questo punto di vista è radicata la giurisdizione amministrativa però aggiunge il fatto che il regolamento comunale non contenga più quanto previsto dalla legge regionale è perché direttamente la legge regionale prevede l'autonomia del corpo di polizia locale per il che non vi era motivo che il nuovo regolamento ribadisse una tutela che discende direttamente dalla legislazione regionale questo lo spiego perché molto spesso i regolamenti comunali sono concepiti come strumenti meramente riepilogativi cioè si approva un regolamento comunale che riproduce il testo normativo non ha senso il regolamento è un atto normativo è un atto innovativo dell'ordinamento quindi deve contenere disposizioni proprie che hanno una forza in virtù del contenuto regolamentare ma laddove riproduce il testo normativo non ha alcun carattere innovativo quindi non serve riprodurre il testo di norme vigenti in questo senso dice il tar il fatto che il comune abbia tolto disposizioni che contenevano direttamente il testo di una norma di legge va interpretato può essere interpretato come volontà non di non applicare quelle disposizioni ma di rinviare direttamente al testo della legge questa è la tesi del tar per il che non vi era motivo che il nuovo regolamento ribadisse una tutela che discende direttamente dalla legge cioè attenzione sta dicendo da un lato al ricorrente che non è questo motivo valido di ricorso ma sta dicendo anche al comune se hai provato a togliere quel riferimento per poi mettere il corpo sotto un altro dirigente non lo puoi fare ok quindi sta vedremo formalmente dando torto al ricorrente sostanzialmente dandogli ragione conseguentemente il corpo di polizia municipale per volontà diretta del legislatore non può essere ricompreso in altra struttura o settore organizzativo del comune punto che ci sia scritto o non scritto nel regolamento gli aspetti specialistici relativi alla preparazione tecnico professionale sono già nella legge anche su questa ragione ricorrente cioè il fatto che il quel parere del segretario e quella aver tolto i riferimenti specialistici non significa che non ci siano ci sono per diretta applicazione della legge la specialità del corpo tra cui ovviamente la specialità del comandante emerge quindi chiaramente dalla legge regionale il comandante non può essere destinato a funzioni e compiti diversi non vi era allora motivo che il nuovo regolamento lo prevedesse espressamente perché è implicito nella legge in conclusione il nuovo regolamento non risulta in contrasto con il quadro legislativo di riferimento perché prevale il quadro legislativo di riferimento il fatto di espungere tutte queste norme può ascriversi solo all'esigenza di eliminare ciò che nella previsione nella previgente versione del regolamento risultava sostanzialmente ridondante guardate questo è anche un messaggio ai comuni non fate regolamenti compilativi è sbagliato fare regolamenti compilativi i regolamenti hanno una funzione innovativa in quanto già previsto dalla legge alla luce di questo il nuovo regolamento non è lesivo della sfera giuridica del ricorrente che nella sostanza ha ragione le sue motivazioni sono già nella legge regionale e nel regolamento ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire perché non è lesivo della sfera giuridica come detto gdpr impone la anonimizzazione per l'uso della sentenza da parte di altri come nel caso del sottoscritto per questo non vi posso citare diciamo il riferimento è un'interessante sentenza che ci aiuta a ripilogare il tema dell'impugnazione dei regolamenti possibile ma in casi eccezionali di come in alcuni casi diciamo è possibile anche il ricorso da parte di dipendenti verso atti della propria amministrazione se ritenuti lesivi della propria posizione su cui sussiste la presidizione del giudice amministrativo se sono atti di macro organizzazione del giudice civile se sono atti di micro organizzazione quindi una sentenza che ci ha consentito di ripassare alcuni di questi concetti e che troverete all'interno della piattaforma vi metterò il link appena conclusa la diretta io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima arrivederci